Papa Francesco ha nominato Vescovo della Diocesi di Albano, Monsignor Vincenzo Viva del Clero della Diocesi di Nardo Gallipoli, finora Rettore del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide a Roma, e quanto si legge nel bolettino diffuso dalla Sala Stampa Vaticana. Una pastorale familiare affidata a coppie di laice famiglie con figli, quali soggetti attivi di evangelizzazione e testimoni validi della missione del matrimonio. E' questo lo spunto su cui Papa Francesco invita a riflettere in questo anno speciale dedicato a famiglia Amoris Letizia. Sentiamo. Sono necessarie corresponsabilità e cooperazione tra sposi e sacerdoti perché ci sia una pastorale familiare in cui si respira comunione ecclesiale, lo ha detto il Papa nell'ambito delle iniziative dedicate all'anno dell'Amoris Letizia e della famiglia. Vergoglio sottolinea che, in virtù del sacramento del matrimonio, ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la Chiesa. Per il Papa, oggi, tante coppie di coniugi e famiglie intere con figli possono farsi testimoni per accompagnare altre famiglie e fare comunità. I principali ostacoli che oggi le famiglie vivono sono povertà, solitudine e difficoltà nei processi educativi. Alcune di queste sfide stentano ancora ad essere affrontate, sostiene il Papa, e richiedono un rinnovato slancio pastorale. L'invito del pontefice è quello a rileggere con slancio missionario l'esortazione apostolica Amoris Letizia per individuare, tra le priorità pastorali che in essa sono indicate, quelle che più corrispondono alle esigenze di ciascuna Chiesa locale. Infine, ribadisce, è necessario uno sforzo particolare per la formazione dei laici, in modo speciale degli sposi e delle famiglie, affinché comprendano meglio l'importanza del loro impegno ecclesiale.